Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo degli scarpa ribelle HD. Uno scarpone che so è uscito qualche anno fa, ma di cui mi fate sempre tantissime domande. Perciò oggi insieme ne vediamo pregi e difetti. Iniziamo come al solito guardando le caratteristiche di questo scarpone. Per quanto riguarda la suola, troviamo una suola Vibram Mont, pensata appositamente da Vibram per questo tipo di scarpone per scarpa. L'intersuola è un'intersuola a B densità, naturalmente un'intersuola abbastanza rigido per essere anche semiramponabile. Per quanto riguarda la tomaia, abbiamo una pelle per Vanker da 2.5 mm, invece la fodera è realizzata con membrana H-Dry. Il peso 695 grammi nella taglia 42. Adesso che abbiamo visto tutte le sue caratteristiche, vediamone pregi e difetti. Iniziamo come al solito parlando dalla suola. Qui troviamo una mescola Vibram Mont con tecnologia Precision Fit di scarpa. Questa cosa vuol dire? La mescola, proprio il materiale con cui ho fatto lo scarpone, è una Vibram Mont. Una mescola abbastanza duratura, una mescola che ha un ottimo grip. Invece per quanto riguarda lo studio della tassellatura in sé, di come è stata strutturata la suola, è la tecnologia Precision Fit di scarpa. Questo in soldoni cosa vuol dire? Che questa scarpa ha veramente un ottimo grip. Se la per quanto riguarda roccia bagnata, fango, ma anche un po' di quella neve non troppo scivolosa, è veramente molto molto grip. Troviamo naturalmente in punta la Climbing Zone per arrampicarci su qualche roccetta. In generale ha una suola con quale mi sono trovato veramente molto bene. Duratura, con questo scarpone ci farete sicuramente tantissimi chilometri. Questa combinazione tra tecnologia scarpa e tecnologia Vibram è veramente un ottimo connubio. Continuiamo, arriviamo a parlare dell'intersuola. Qui troviamo un'intersuola a doppia densità. Un'intersuola che insieme alla suola rende lo scarpone abbastanza rigido. Non è al 100% rigido. Diciamo che è una via di mezzo tra un semi e un rigido completo. È sicuramente uno scarpone che si può ramponare grazie all'attacca posteriore dell'inserto semiramponabile e per il resto, per quanto riguarda anche l'utilizzo col rampone, va veramente molto molto bene. Addirittura questo scarpone potreste utilizzarlo con un rampone senza struttura perché ha davvero una bella struttura già lui. Quindi davvero uno scarpone, soprattutto con il rampone, che lavora veramente molto bene. Saliamo, arriviamo a parlare di tutta la parte superiore, iniziando dal puntale. Qui troviamo un puntale che, ragazzi, direi che è strutturato direi poco. Cioè, con questa scarpa potete letteralmente prendere a calci le rocce e non sentirete nulla. Davvero, nulla. E per quanto riguarda poi tutta la tomaia, qui troviamo una tomaia in pelle scamosciata per Vanger da 2.5 mm. Questo cosa vuol dire che troviamo uno scarpone abbastanza caldo. Io non ve lo consiglio tanto per l'estate. Per l'estate, anche se è andato a fare dei 4.000, magari è meglio pensare al modello light, che è un pochino più traspirante. Diciamo che questo è perfetto per tre stagioni, dove la terza stagione è l'inverno, non tanto l'estate. D'inverno, diciamo che con uno scarpone del genere, magari accompagnato anche una buona calza, potreste arrivare a un paio di gradi sotto lo zero. Meno 5 massimo, ecco. Però sì, diciamo che d'estate ho trovato una giornata particolarmente fredda, oppure rischiati di sudarci abbastanza. In sé, comunque, la pelle a me sta durando, fatta bene. Io l'ho stressato in questi mesi di utilizzo facendoci alpinismo, quindi secondo me la pelle può avere una grande durabilità. Inoltre, per quanto riguarda la fodera, qui troviamo la tecnologia 37.5 di scarpa, che praticamente è una tecnologia che ci assicura che avremo sempre il piede a 37.5 gradi. Allora, io non ho avuto modo di misurarla tutte le volte, tutti i giorni, perché è un po' difficile. Però a pelle vi assicuro che anche utilizzato nella neve fresca per tante ore, il piede all'interno resta abbastanza caldo, quindi io mi fido di questa tecnologia. E sempre per quanto riguarda la fodera, abbiamo la membrana H-Dry per l'impermeabilità perfetta, semplicemente perfetta. Non aggiungo altro, perché per quanto riguarda H-Dry ho già fatto un video al riguardo sul canale. Continuiamo, arriviamo a parlare di tutta la zona del tallone. Come vi dicevo, nella parte bassa abbiamo l'inserto semiramponabile e poi in generale è un tallone veramente molto molto strutturato. Cioè, con una scarpa del genere sarà letteralmente impossibile prendersi storte, quello sicuramente, ma ci dà anche un ottimo sostegno nel momento in cui dobbiamo andare a fare dei traversi, magari delle creste, magari anche della parte un po' rocciosa in cui c'è da arrampicare. Quindi un tallone comunque decisamente ben costruito. Mi piace poi che sia abbastanza imbottito, ma non troppo. Nel senso che comunque sentiamo che è abbastanza rigida anche la parte del tallone. Questo appunto per prevenire ancora di più quelle che possono essere storte. Però comunque utilizzandolo per tante tante ore non è che abbiamo punti di pressione, non è che ci fa venire vesciche o simili. Quindi comunque un tallone è sicuramente studiato bene. Per quanto riguarda poi linguetta, questa è abbastanza classica, imbottita, resta ferma, svolge molto bene il suo lavoro. E invece i lacci, questi mi sono piaciuti molto, perché partono abbastanza in punta sullo scarpone, quindi possiamo serrarlo veramente molto molto bene. Nella parte inferiore stanno abbastanza serrati, comunque il laccio scorre molto bene. E poi troviamo i tre passalacci superiori, di cui quello inferiore e autobloccante. Quindi noi volendo possiamo serrarlo una volta e lasciarlo con quel tipo di serraggio. Io adoro gli inserti passalacci autobloccanti, perché davvero aiutano tanto durante un'escursione. E soprattutto anche perché poi possiamo avere un diverso fit tra la parte inferiore e la parte del collo. Per quanto riguarda la soletta interna, questa è removibile, però io mi ci sono trovato bene. Mi si è bagnato anche lo scarpone, perché avendolo utilizzato senza ghetta su neve alta, mi è entrata abbastanza acqua. E anche con scarpone dentro, inzuppato, ha lavorato comunque bene. Non ne sento la necessità di doverla cambiare. Per quanto riguarda la calzata di questi scarponi, che è una delle cose che mi chiedete più spesso, allora, sicuramente non è uno scarpone stretto. Cioè, io comunque ho preso il mio solito numero, la calzatura che prendo di scarpa, e mi sono trovato bene. Sicuramente non è neanche uno scarpone largo. È uno scarpone comunque che ha un fit abbastanza preciso, per far sì che anche la camminata e il passo sia preciso. Il mio consiglio, se siete indecisi, di andare a provarlo. Soprattutto gli scarponi d'alpinismo, ha senso andare a provarli, andare a vedere come sta il piede all'interno, e soprattutto guardate bene anche l'allacciatura. Quindi, in tutto ciò, il mio consiglio è o sapete già che con scarpa andate via con quel numero, vi trovate sempre bene, oppure, ragazzi, fate un salto in un negozio e provatelo. Arriviamo dunque alle conclusioni per questi Scarpa Ribelle HD. Ve li consiglio? Sì, io mi ci sono trovato veramente molto molto bene. Utilizzati per fare vie ferrate, oppure utilizzati per fare dell'alpinismo d'alta quota, secondo me sono davvero tanta roba. Cioè, è uno scarpone veramente buono. Per quanto riguarda il prezzo, vabbè, il prezzo ufficiale di Scarpa non ve lo dico neanche, perché è abbastanza alto. O in giro li si trova tra i 180 e i 200 euro, secondo me vale tanto questo scarpone. Davvero, è sicuramente uno di quegli scarponi che comprate oggi, vi troverete bene finché non finiranno di vivere. E aggiungo che comunque la suola è risuolabile, quindi nel caso finisse la suola potete anche aumentarne la vita. Dato ciò, ragazzi, io nella speranza sia stato esauramente esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per l'avevo guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!